. . Botta e risposta a distanza tra Rosanna Cancellieri e Milli Carlucci. L'ex volto del Tg3, ospite di Caterina Balivo a Bieni-Deni, ha denunciato di essere stata illusa e poi esclusa dall'edizione 2019 di Ballando con l'Esteo. A risponderle è stata la padrona di casa Milli Carlucci che, senza volere entrare in politica, ha elencato i motivi che hanno portato alla sua esclusiva. Le accuse della Cancellieri Rosanna Cancellieri, ospite a Vieni da me, ha raccontato, è una storia molto dolorosa per me. Io adoro ballare, nella prossima vita vorrei essere un attuale. . 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 Antonio Razzi e della web star Marco Leonardo. Il ballerino malato d'Isla, Ivan Cortini, invece, interverrà in trasmissione in qualità di Oscar.